La temevo un po' di più perché per noi sono arrivati proprio i carichi di lavoro, l'accumulo dei carichi di lavoro è arrivato all'apice più alto e troviamo una squadra, abbiamo trovato oggi pomeriggio una squadra che la settimana prossima comincia il suo campionato e quindi insomma temevo che ci avrebbero messo maggiormente in difficoltà dal punto di vista del ritmo. Questa cosa va benissimo, poi anche per come si è sviluppata la partita e quindi un primo tempo dove abbiamo fatto una fatica logica però con l'andare della partita abbiamo preso maggiore dimestichezza e siamo riusciti ad essere comunque lucidi all'interno di questo contenitore di fatica per giocare, rigiocare, rigiocare, dare minutaggio a un numero di giocatori che ti consenta di affrontare questa fase iniziale con un certo tipo di solidità. Qui c'è un gruppo storico e consolidato di ragazzi che stanno insieme da parecchio tempo, mi sembra che stiano diventando più accoglienti rispetto a chi arriva da fuori.